Sarà l'opera pittorica, San Francesco riceve l'estimate di Bartolomeo della Gatta a rappresentare Castiglion Fiorentino e l'intera provincia di Arezzo ad Expo 2015. Il capolavoro del XV secolo, attualmente custodito nella Pinacoteca Comunale della Cittadina del Palio dei Rioni, è stato scelto da Vittorio Sgarbi per raccontare al mondo intero la cultura e il territorio del nostro paese. Il capolavoro dell'artista fiorentino sarà collocato nel diciottesimo padiglione denominato Italy, i tesori d'Italia. Si tratta dell'area dedicata alla biodiversità agroalimentare, umana, paesaggistica ed artistica. Saranno presenti tutte le regioni d'Italia con una selezione di opere d'arte che rappresentano la loro identità. La Toscana dunque verrà rappresentata anche da Castiglion Fiorentino con il dipinto del 1486, che godrà di una vetrina internazionale in cui si stima un'affluenza di 10.000 persone al giorno. Quest'opera è una delle opere che rappresenterà i tesori d'Italia all'interno dell'Expo, nella fattispecie rappresenterà la provincia di Arezzo insieme credo anche a un'opera, l'albero della vita presente a Lucignano. Noi siamo felici perché teniamo alto il nome della Val di Chiana, di Castiglion Fiorentino e anche della provincia di Arezzo. Il primo maggio l'opera partirà alla volta di Expo 2015 e vi rimarrà fino al 31 ottobre, ma prima un'altra destinazione attende il celebre dipinto. Presteremo quest'opera alla Galleria dell'Accademia di Firenze nel periodo di marzo fino a aprile per una mostra il cui tema è San Francesco.